Stavo uscendo e sono passato il reparto, buongiorno. Scusate, ma ho scordato di dirvi che oggi il reparto produzione rimarrà fermo. Tutto il personale già in servizio può tornare a casa e verrà ricontattato per la lista dei turni dei prossimi giorni. Come? Oggi dobbiamo tornare a casa? E perché? Sì, esatto, oggi potete tornarvene a casa. Ovviamente l'ora di lavoro di questa mattina vi verrà pagata. Ma che carino. Nei prossimi giorni vi farò avere la lista dei turni. Adesso sì che potete ridere. Ma come si permette? Grazie a tutti. Noi non siamo giocatori da rompere, però possiamo risolvere lottando. Noi non siamo giocatori da rompere, però possiamo risolvere lottando. Noi non siamo giocatori da rompere, però possiamo risolvere lottando. Noi non siamo giocatori da rompere, però possiamo risolvere lottando. Noi non siamo giocatori da rompere.